Ciao! Allora, oggi sfogliamo il catalogo numero 15 del libro Shea che è valido fino al primo dicembre del 2016. Come sempre vi ricordo che è sempre valido il catalogo di Natale, che comunque nel box di informazioni qui sotto vedete, che potete fare gli ordini assieme, quindi tranquillamente, ma lo vedete a parte. Allora, questo catalogo numero 15 ha tantissimi set regalo che sono perfetti per Natale, ovviamente, tanti adizioni limitate, tanti set bellezza, quindi direi di iniziare subito a sfogliarlo. Ed allora eccoci qui a sfogliare il catalogo, vediamo subito, ecco, abbiamo il primo set regalo, quindi eccolo qua il primo della linea Ride Clutter, della Serum Vegetal 2795, abbiamo questo Vanity verde con il trattamento giorno e il trattamento notte. Altra linea, eccola qua, Ride Fermetè, sempre da Serum Vegetal 2995, il Vanity più il trattamento giorno e il trattamento notte. Volendo si può, con questo codice, scegliere il trattamento giorno con protezione denti, poi c'è sempre il notte e il beauty. Poi, Serum Vegetal, Ride Lifting 3495, giorno, notte più il beauty. Elixir 79 3795, giorno, notte e il beauty. Volendo, scelta, altro codice, il giorno, aiuto, quello per la pelle secca, ecco, oppure l'altro codice, il giorno sempre e quello per la pelle sensibile. Poi, abbiamo l'anatiche globale, giorno, notte con il beauty, oppure la crema giorno, quella per la pelle secca, oppure la crema giorno con la protezione denti, il resto non cambia, sempre notte più il beauty. Linea Rich Creme 3495, beauty, crema giorno e crema notte. Linea Lifting Bio, ovviamente, giorno, notte più il beauty a 2795. E la linea Zero Default, Zero Difetti 3495, beauty, Siero Perfettatore Antimacchie e Correttore Mirato Antimacchie. Vediamo ora i set regali, in questo caso, della linea Elixir Neutour. Abbiamo a 995 i set delle varie profumazioni che comprendono il bagno doccia, il latte corpo con la confezione regalo. Questo è quello della noce di cocco, oppure anche il set più grande della noce di cocco a 1495, che comprende il bagno doccia, il latte corpo, l'olio doccia, la pastiglia effervescente, la spugna da massaggio e il cestino. Altro set regalo, in questo caso, è quello della linea Vanilla Bourbon, 995, come prima, bagno doccia, latte corpo e la confezione regalo. Oppure, eccolo qua, il set con il cestino, come prima, quindi a 1495, quello completo. Stessa cosa per la linea Oliva e Petite Grand, quindi quello piccolo a 995, o quello grande completo a 1495. Stessa cosa, mandorla e filo d'arancio, piccolo e grande, eccolo qua. Lampone e menta piperita, stessa cosa, bagno doccia, latte corpo e filo a confezione, oppure il set più grande, sempre la stessa cosa. Mango e coriandolo, sempre 995, quello piccolo, o il set più grande. Lavandina e mora, sempre il set piccolo più il grande. Veniamo ora all'idea regalo, ed è in questo caso nei lati, perché sono edizioni limitate. Abbiamo il set di smalti, con la palla di Natale e contenitore, che è anche bella da penda dopo, è una bella usata, e con dentro tre smalti, quindi questo antracite, il bluenotte ed il purple, tutti parlati. Edizione limitata, abbiamo anche, eccola qua, il top coat con le paillettes. Ah, che carino. Se no, abbiamo l'altro set di smalti, eccolo qua, sempre con la palla di Natale, che comprende i tre smalti, questo è l'oro, più l'argento con le paillettes, e il colore ibiscus rouge. Altro set, anche questo è molto carino, è a 1695, abbiamo il vanity, eccolo qua, e questa cosa si può scegliere tra il set maquillage viola o nero. Vi faccio vedere intanto questo, che comprende il vanity, ok? Poi lo stile occhi waterproof, il violet, il rossetto brillantezza vegetale rosa sorbetto, e lo struccante rocchi bifasico, eccolo qui. Oppure abbiamo il set maquillage noir, che comprende lo stile occhi waterproof e nero, il rossetto brillantezza vegetale rouge e eclante, e lo struccante rocchi bifasico. Quindi, il vanity e lo struccante ci sono sempre. Bisogna scegliere i colori tra quello violet, eccolo qua, che è quello per colori un po' più chiari, oppure quello per il nero intenso con il rossetto rosso. Altri set, ecco nell'altra pagina, si è per stessa cosa, però abbiamo il set maquillage verde, che ha lo stile occhi waterproof verde, il rossetto brillantezza vegetale e malva, e lo struccante, sempre, oppure il set maquillage turqua, turchese, stile occhi turchese, rossetto brillante vegetale coral pappe, e sempre lo struccante e il vanity. In questo caso c'è la promozione, perché il mascara, il curvante vertiginoso, il volume vertige, eccolo qua, è in promozione a 9,95, è nel colore nero, marrone, oppure blu. Ultimo prodotto, e questo è per una buona causa, perché abbiamo il flaccone, allora questo qui è lo shampoo per capelli, shampoo lucentezza, 300 ml, 3,95 e ogni prodotto acquistato si ha un albero piantato. Questa promozione spesso viene fatta da Librochet per riuscire ad aiutare il pianeta, ed è una promozione che, con un piccolo contributo, comunque sia sia un prodotto valido, una confezione da conservare, anche per dire ho aiutato il pianeta, e Librochet comunque continua a piantare gli alberi. Questo era tutto il catalogo. Allora, abbiamo guardato tutto il catalogo, come sempre vi ricordo che qui sotto nell'info box ci sono i link per contattarmi, per le informazioni e per gli ordini tranquillamente, e come sempre c'è sempre il link per scaricare il formato PDF e il catalogo, così potete sfogliarlo sul vostro computer, tablet, smartphone, quello che volete. Ed niente, era il catalogo, ve l'ho ricordato, sempre nel link c'è anche il catalogo di Natale, ve l'ho già detto, e non mi resta che augurarvi i buoni acquisti naturalmente fumati, con il magico attuale mondo di Librochet.